In questo momento ci sembra opportuno mantenere un po' di cautela dal momento che stiamo faticosamente uscendo piano piano da questa situazione e non vogliamo rischiare di ricaderci. Studieremo insieme ai colleghi dell'Unione la proposta del collega Ignesti Dell'Anci, per ora però preferisco avere la massima cautela. Così il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni che dice che il nostro territorio è vastissimo con 180.000 abitanti, praticamente la seconda città della Toscana. Chiediamo che la Regione Toscana porti in conferenza Stato e Regioni all'attenzione del Governo l'ipotesi che quando saremo in zona arancione ci si possa spostare all'interno delle 26 unioni dei comuni toscani e non solo nel proprio comune. Quanto scrive Federico Ignesti, sindaco di Scarperie San Piero e responsabile di settore di Anci Toscana, in una lettera inviata al presidente Eugenio Gianni. Il suo collega di Castelfiorentino però ancora non è convinto. Io ho visto questa posizione espressa da Federico e il nostro rappresentante in Anci sulla stampa e quindi ancora non abbiamo avuto modo all'interno della giunta dell'Unione con i miei colleghi degli 11 comuni dell'Empresa Valdezza di vagliare bene pro e contro di questa proposta. Però vediamo, valutiamo, sappiamo che non tutte le unioni hanno uguale configurazione sul territorio toscano, in qualche caso si tratta di mettere insieme quattro piccoli comuni, per noi è un po' diversa.